Spesso quando si parla di posizione in sella si pensa sia una prerogativa dei ciclisti professionisti oppure di chi pratica agonismo, invece oggi la bicicletta sta diventando un mezzo di trasporto e quindi è importante comunque lavorare sul posizionamento in sella o sul bike fit come viene identificato oggi giorno per migliorare il comfort e per prevenire gli infortuni. Quindi anche se non fai competizioni è importante una posizione corretta per prevenire dolore al collo alle spalle nella zona lombare e l'articolazione del ginocchio. Se hai acquistato da poco una nuova bicicletta oppure hai in previsione o un viaggio in bici ti consiglio di verificare la tua posizione, questo ti permetterà di pedalare più comodo e di affaticarti di nero.